La giunta provinciale ha deciso di avviare un progetto pilota per la creazione di una terza base dell'elisoccorso provinciale in Val Venosta dove sarà operativo il terzo elicottero della Heli, il Pelican 3. La nuova base sarà su un'area aperta di circa 1500 metri quadrati di proprietà dell'impresa Hoppe che l'aveva adattata ad heliporto per usi propri. La locazione dell'heliporto e delle strutture per tre anni dal 2021 al 2023 comporteranno un investimento di poco più di 123 mila euro. Tutti immaginiamo che potrà essere e sarà poi anche una cosa stabile nel tempo, però intanto vogliamo fare le prime esperienze anche col Pelican 3 in Val Venosta e adesso oggi è stata autorizzata la spesa, anche il contratto e così creiamo i presupposti per poter partire anche con questo servizio assai importante per la popolazione e per la sicurezza soprattutto dai cittadini. Approvata una proposta di legge per rendere più snelle le procedure burocratiche per chi organizza manifestazioni e spettacoli pubblici insieme ai comuni. La proposta di legge prevede tra le altre cose che la verifica dell'idoneità non sia necessaria per i luoghi l'aperto destinati allo stazionamento del pubblico. Prevista anche la possibilità di elaborare progetti standard di idoneità. Sicuramente uno snellimento, una facilitazione per tutti gli interessati, in effetti tutto questo è stato elaborato assieme allora, assieme al Consorzio dei Comuni e anche ai rappresentanti diciamo di organizzazioni che sono attivi in questo settore. Via Libera al programma 220 della cooperazione allo sviluppo, sostegno a progetti e partenariati in Africa, Asia ed Europa dell'Est, messi a disposizione 3 milioni e 100 mila euro.